Educare alla prossimità, all'apertura verso mondi e culture diverse, alla vicinanza. Sono molteplici le opportunità a cui apre un'esperienza missionaria, soprattutto se coltivata già in giovane età. Missio Giovani, che rappresenta uno dei rami di Missio Italia Organismo Pastorale della CEI, si prefigge come scopo proprio questo, far conoscere la missione ai ragazzi. Recentemente è stata nominata rappresentante Elisabetta Vitali, 24enne, studentessa universitaria, della diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola, cresciuta nel centro missionario della propria diocesi. Io ho conosciuto il centro missionario perché dei ragazzi me ne hanno parlato, e me ne hanno parlato con tanto entusiasmo di quello che facevano, dei campi, dei viaggi, e che ovviamente mi ha coinvolto e quindi ho detto è una cosa troppo bella e devo farla anch'io, devo andare anch'io. Quindi un po' questa passione me l'hanno anche trasmessa loro, questi giovani che ho visto molto felici, molto entusiasti e io ho capito che era una cosa bella. Anche le diocesi Liguri stanno progettando percorsi di formazione missionaria attraverso il contatto con alcuni sacerdoti impegnati in terra di missione. A Savona la proposta rivolta ai giovani è quella di trascorrere un periodo estivo in Centrafrica dove è operativo Don Michele Farina. A Chiavari è allo studio l'elaborazione di un progetto che consenta un'esperienza missionaria a Cuba. Tutte attività che si pongono nel solco della sensibilità che Missio Giovani sta portando avanti. Di coinvolgere e di fare rete tra tutte quelle che sono le realtà giovanili missionarie che ci sono in Italia. Dare responsabilità ai giovani innanzitutto serve perché li fa crescere.